La catastrofe imminente è un tema, non un problema. Capita talvolta che le frasi di Sgalambro suonino come il grave lamento della rovina. Al suo cospetto tutto è silenzio. Al centro, il collasso termico del sistema solare, quella fine del mondo oramai prossima della quale noi siamo contemporanei. Ho detto, se chiamassimo alla sua responsabilità uno Schopenhauer, dici come mai puoi essere, tu non ti accorgi che dicendo che il mondo è la rappresentazione, sconvolgi tutto, riduci a sogno, a illusione, a chimera. E quindi l'ordine costituito, le nostre credenze e il tutto, cioè dire che quest'uomo avrebbe potuto essere, come Socrate, trascinato davanti a un tribunale. Di fronte alla distruzione globale l'unica dimensione plausibile è quella del postludio. Grazie a tutti.